Attenzione, 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 se il caricamento non dura troppo, tra pochissimo potrò mettere le mani su un piccone, un deltaplano fantastici, vendetta incandescente, mamma mia ragazzi, che filse con sto piccone, purtroppo non ho ovviamente quello oggi, ma è lui, è lui ragazzi, tra l'altro dovremmo avere anche il deltaplano. Allora, il piccone lo abbiamo, ma il deltaplano purtroppo no, mancano 5 punti e non si può sbloccare ancora. Eh no, se facciamo ottieni esperienza sì. Eh sì, dobbiamo fare 250.000 di esperienza. È fattibile, in realtà. Se lo dice lei. Ok ragazzi, siamo riusciti a fare 250.000 punti esperienza in una sola partita, mi sono ammazzato di sfide, io ho tagliato quella parte perché raga è stata una partita noiosissima, Il piccone l'ho già provato, me lo volevo spoilerare, è davvero fighissimo. Ma adesso abbiamo anche il deltaplano che è perfetto con Bampa, la versione infernale della Renegade. Discesa ardente ragazzi, veramente figo. Adesso vi faccio vedere il set. Abbiamo ovviamente Bampa, che appunto è la Renegade del suo set, senza dorso decorativo ragazzi, non ne ha bisogno. Vendetta incandescente, discesa ardente, direi che la scia con l'acqua è assolutamente inappropriata. C'è la sua. C'è la sua, ma ci sarebbe anche proprio quella di fiamme in realtà. Ok, diciamo che sì, è la sua, forse le fiamme ci stavano meglio, però mettiamo quello che è suo. Per la copertura ragazzi andiamo con questa qui, che oddio, vi dico la verità, ne ho viste di meglio con fuoco, Bampa e quant'altro. Però dai, diciamo che andiamo ad applicare questo. Ecco qui tutto il set, adesso andiamo a dar fuoco. Oddio no, detta così è abbastanza brutta. Andiamo a rendere un po' più incandescente la lobby. Ma ovviamente, prima di iniziare con la partita, vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite. Mi raccomando ragazzi, è davvero fondamentale per supportarmi. Quindi controllate sempre, sul supporto del creatore ci si è scritto GGYT, tutto grande, tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite. Mi raccomando ragazzi, è davvero fondamentale per supportarmi. Quindi controllate ogni due settimane che il codice sia ancora lì nello shop, perché appunto scade, ogni 14 giorni scade. Iscrivetevi al canale se è cosa è fatto, lasciando un bel mi piace. Ora vi lascio la partita, buona visione. Ok, allora raga, la scia molto carina, ma l'ho detto, secondo me ci stavate meglio. Le fiamme secondo me erano molto meglio. Il deltaplano ragazzi è qualcosa di pazzesco, non è proprio il mio genere, non è proprio il mio genere. Però è molto accattivante, è molto cattivo. Ecco, i nemici devono stare attenti con qualcuno che utilizza sto deltaplano, diciamo così. Poi bam, ragazzi, è spettacolare. E adesso vi faccio vedere il piccone, perché raga, il piccone è proprio la ciregina sulla torta. È una roba veramente incredibile. Allora, scendiamo subito a prendere un'arma, amore, perché io ho sentito dei deltaplani. Eh, sì, quelli sono alta. Ok, quindi vedi dove sono andati i nostri amici? Dove sono andati i nostri amici? Eh, no, qua nessuno. Ah, ok, meglio, 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 meglio. Ah, no, eccoli, eccoli. Dove, dove, dove? Qua. Ah, lì? E io ho il DMR, adesso li sfondo tutti. Dove sta? No, anche qua. Ho sentito uno planare qua vicino a noi, amore, ce l'hai proprio lì? Sì, passo, infatti. Dove è andato? E sta sotto? No. Eh, no. Oh, ma che c... Dove sta questo, raga? Spacca qui. No, raga, ma questo è un mistero. Mistero della festa. Eccolo. Ciao, amico. L'ho lisciato, non ci credo. Aveva preso danno da caduta, tra l'altro. C'aveva già del danno subito. Vabbè. Ok, a posto. Allora, la copertura, raga. Ma ve l'ho detto, raga, guardate la copertura. Ma sta copertura non si vede quasi. Sì, ma sì, ma mi sembrano abbastanza tranquilli, devastato. Ce n'è un altro? Ah, no, 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 no. C'è un altro team ancora, allora. È giusto, sì, è un altro team ancora. Ok. Stiamo... Oh, passi qui. Passi qui. Altri passi qui. Non mi rubare la kill, grazie. Tendevo al nemico, eh, amore. Tu puoi fare quello che vuoi. Si chiamava Renegade, tra l'altro, questo. Che cringe, raga. Ma questa è a terra, quindi è un altro team ancora. Sì, un altro team ancora, te lo stavo per dire, infatti. Ma che è? Tutti qui sono venuti. Ma che era il raduno? Il raduno delle Renegade. Vabbè, incredibile. Raga, il piccone è veramente bello. Il piccone potrebbe tranquillamente diventare uno dei miei picconi preferiti, ve lo dico. E non solo perché sembra quello lì OG, eccetera, ma proprio perché è molto figo. Ovviamente era molto figo anche quello lì OG, che io però purtroppo non ho. Mi sparano da sopra il ponte? No, è qua. No, da qua. Non mi sta ne... Ma non mi mirava il coso! Non mi mirava il DMR! Ma che cos'è? Che è un nuovo bug! Oh, c'aveva il martello. Grazie. O sono io che non so cliccare sul mouse? Mi dice sono io che non so cliccare sul mouse. Non riuscivo a mirare con il DMR, va bene. Tra l'altro dobbiamo correre perché sta arrivando la tempesta. Manca un minutino e trenta e dobbiamo ancora fare più di 350 metri. C'è un atterrato qui. Ma non è jump, tanto amore. Sì, ma c'è un atterrato qui. Ora glielo chiedo. Scusami, amico, chi ti ha atterrato? Amico mio, ti voglio salvare. Chi ti ha atterrato? E non me lo dici però! Questa gente che non c'ha più rispetto per chi li vuole aiutare. Vabbè, allora, prendiamo sì le jump e andiamo. Ma comunque, sul serio, chi lo aveva atterrato quel Joker? Ah, c'è gente qui. E mi stanno anche sparando da sinistra, ma io sto atterrando... Raga, questo che cosa sta facendo? Ma? L'ho distrutto? Devastato. Ok, perfetto. Raga, ma sto mankick stava facendo da tank a quello lì che poi mi ha sparato alle spalle, praticamente. Hanno fatto gioco di squadra, sti due, raga. Incredibile, fortissimo. C'abbiamo a sparire dietro ancora. No, ma c'abbiamo gente qua davanti. È una zucca di alo. Ah, vabbè, quello intendevo io dietro. Devastato. Ok, ok, ok. Altri passi qui. No, altri due passi! Ok, te l'ho aiutato. Perfetto, ma c'è... Stanno altri passi, eh? Stanno qua in alto. Eh, sì, lo so. Marca miseria, non volevo prendere danni dalla tempesta, ma alla fine mi tocca. Rottoscita a questo. Uno atterrato. Ma quanta gente è? Tutti... Tutti i team diversi? Che cavolo. E' un martello dorato, c'aveva questo. Eh, sì, da qua a sinistra continuano a sparare. L'ho lisciato. L'ho lisciato, mannaggia, la miseria, mannaggia. Ok. Craccato. 31-31 bianco. Brava. Morto da un animale, mi sa. Non lo so, ho il dubbio. Allora, vieni che ho due splescine. Va bene, va bene. E tanto ne avevo solo due, quindi era inutile. E così stanno qui davanti. No, si è spostato all'ultimo, era fermo. Non ci credo. Vabbè, oggi con c'è chi non ci piglio. Eh, vabbè, ma quanta gente c'è? Ok, perfetto. Fatto uno. Stanno tutti qua, raga. Dai, dai, ma quello che è? Tipo un fantasma, non gli entrano i colpi su quello. Atterrati due. Ah, sì, ho visto, amore. Brava, ma... Ok. Oddio, questo mi spavano ad accanto, praticamente. Ok. Ma ancora a terra! Raga? Dove stanno tutti, esattamente? Uh. Qua. Che c'è? Che c'è che è uno dei compagni? Eh, ma probabile. Anche perché poi comunque dobbiamo andare in safe, perché la tempesta sta per ripartire ed è ovviamente, ovviamente, lontanissima. Ah, c'è gente qua a destra! Qua sotto. Sì, qua. Qua, 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 qua dietro sto coso. Ok, perfetto. Ma poi tutti messi male, eh? Cioè, raga, tutti messi malissimo, perché sicuramente questi stavano tutti a pushada tipo mezz'ora. Eh, manca quello ancora che era qua dietro, eh? Eh, sì, lo so. Infatti, eh, sparano davanti. Mi sa, sparano al benzinaio. Allora, sparano qui davanti a me e stanno rebuttando. Ha rebutto qua. Ah, no, hanno rebuttato. Allora, fermi un attimo. Vediamo se questo qua... Si, rotto shield. Mamma mia, raga! Ha iniziato a saltellare come una capretta, ma non è servito. Quello si è messo entro il cespuglio. Stai andando troppo in là, vedi, eh? Non stai andando in chief. No, no, no. Ebbè, sto andando dritto per dritto, in realtà. E che poi questi qua me li volevo schillare. Occhio che mi sa... C'è qualcuno in cespuglio qui a sinistra, amore mio. Questo mio? Eh, qua a sinistra, sì. No, qua a sinistra. Mo' non so se è quello lì che hai pingato. Questo qua. Però potrebbe anche essersene andato. In realtà gli conviene essersene andato. Ok. Eh, con l'animale. C'è uno che è un animale. Ah, ok, ok. E tutti che scappano, raga. Ma tutti che stavano faitando. Ci sta dicendo bene in sta partita. Perché becchiamo tutti quelli che stanno già faitando e si sono messi male, praticamente. Ah, sparano qui dietro. Eh, lui è qua. Sì, arrivo. Gli faccio il giro di qua. È da solo? Eh, c'è. Ha solo 30. Ah, no, sono due. Sono due. Eh, c'è anche un Harley Quinn che è scappata. Penso sia con loro. Ma questo che sta a fa? Sì, ma altra gente ancora. È qui alla nostra sinistra. Madonna, come l'ho preso, raga. Eh, l'Harley Quinn è una bella mera. Eh, io no. Ok, no scherzone. Adesso l'ho preso pieno. Non so se è un animale o c'è qualcun altro sopra. Potrebbe essere un animale. Porca miseria, raga. Quell'Harley Quinn di poco non gli faceva un headshot che se lo ricordava, eh. Per poco non gli faceva un headshot che se lo ricordava. Però occhio perché potrebbe anche essere qui vicino. Sparano qui a sinistra. Ah, ecco. Eh, sì, si è trasformato in cromo. L'ho lisciato. Ah, quello è un Goku, però. Mannaggia. Alterno grandi cecchinate a delle pollate incredibili. È craccato quello. Ma amore, c'è un Goku accanto. È pushato da sotto i piedi. Non ci ho fatto in tempo. Oddio. Oddio. Ti stanno pushando col cromo, vedi? Eh, lo so. Ripa. Eh, gli ho rotto lo shield, ma non ce l'ho fatta. Peccato, ragazzi. Peccato. Ok, ragazzi. Allora, set fighissimo. Peccato che non siamo riusciti ad inaugurarlo con una vittoria. Siamo stati un po' ingordi con le kill, probabilmente. Però ci stava. Ci siamo fatti una bella partita intensa con tante belle kill. Vi ricordo, ovviamente, il codice creatore. GGYT. Tutto grande, tutto attaccato. Se dovevo caricarsi il negozio oggetti di Fortnite. Ovviamente, utilizzatelo per supportarmi. Grazie a vero di cuore a chi lo farà. Lasciate a me il mi piace. Iscrivetevi al canale se è cosa è fatto. Iscrivetevi sotto nei commenti cosa ne pensate appunto di questo set. Per noi è tutto. Ci ritroviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.